Grazie. Sulla prima domanda valuterò domani pomeriggio insieme al Capo dello Stato le modalità, però la sostanza è abbastanza chiara. Io voglio che ci sia il chiarimento, il chiarimento politico e deve essere un chiarimento in cui ognuno si assuma le responsabilità di decidere che cosa vogliamo fare nel futuro, se si vuole buttare via tutto ciò che di positivo si è fatto, tutto ciò che si è messo in cantiere oppure se si vuole invece cogliere le opportunità che ci sono, le opportunità di crescita, di sviluppo, di posti di lavoro che si stanno mettendo a punto e che nei prossimi mesi possono e dovranno sicuramente emergere.